buongiorno a tutti ragazzi le nostre cartine sono già pronte giriamole per vedere che cosa avranno da dirci oggi e come sempre i miei studenti sono invitati a mettere in pausa e a dare la loro interpretazione nei commenti cominciamo con la carta dell'avanzamento della progressione la carta della rassegnazione e la carta della soluzione che è caduta orizzontale e allora io direi che l'avanzamento la progressione è sicuramente una bella carta sicuramente significa che ci stiamo portando avanti su qualcosa che stiamo andando avanti e che stiamo anche ottenendo dei risultati magari non troppo rapidamente ma comunque stiamo progredendo e quindi un passo dopo l'altro verso l'obiettivo siamo sempre più vicini inoltre lungo questo cammino qualcuno ci ha magari anche dato una mano o lungo questo cammino abbiamo dovuto in certi momenti anche sacrificarci abbiamo dovuto magari o chiedere aiuto a qualcuno oppure rinunciare a qualcosa oppure offrire qualcosa di nostro trovare delle chiavi riuscire magari abbiamo anche dovuto pensare tanto ragionare tanto e riflettere per trovare delle chiavi che ci permettessero di aprire delle porte è ovvio che avanzare in qualunque cosa significa sempre trovare la strada significa sempre andare avanti se siamo interessati a una persona in particolare per raggiungere quella persona chiaramente ci sono degli ostacoli da superare se non siamo ancora insieme e il nostro desiderio sembra sembra lì sembra difficilmente realizzabile o sembra che ci voglia tempo per realizzarlo beh probabilmente è così ci vuole tempo per realizzarlo ci sono dei passaggi che dobbiamo ancora fare e una cosa abbastanza chiara è che quando qualcuno ci corteggia ma a noi non piace noi sappiamo benissimo perché questa persona non ci piace noi potremmo fare l'elenco delle cose che non ci piacciono quando però qualcuno quando però siamo noi che non piacciamo a qualcuno è più difficile capire che cos'è che non piace di noi a questa persona perché questo succede questo succede perché di solito se tu non mi piaci io non ho il coraggio di dirti per filo e per segno perché non mi piaci magari lo dico alla mia amica mi confido parlo scherzo rido ma non ho il coraggio di dire a te al cento per cento perché non mi piaci perché ho paura di ferirti perché ho paura di essere scortese perché magari penso che non sia necessario dire criticare e dire cose negative a una persona che potrebbe rimanerci male piuttosto invento una scusa o piuttosto lo faccio capire piuttosto mi allontano piuttosto ti evito quindi è sempre molto facile dire perché gli altri non ci piacciono ma è sempre difficilissimo capire perché noi non piacciamo agli altri e questo è quello che ogni volta ci rovina la vita perché non sapere per quale motivo non mi cerca non mi chiama e non mi vuole poi diventa la mia ossessione e allora poi io comincio a chiamare il cartomante comincio a chiamare il tarologo vado dallo psicologo chiamo l'astrologo chiedo consulenze vado dal coach faccio cioè ecco quello è il vero problema perché se quando qualcuno ci ci molla o ci evita è in grado di dire senti guarda ascolta non non ci penso proprio non può funzionare proprio perché perché punto primo non mi piaci fisicamente perché punto primo penso che tu sia intellettualmente stupido perché tu perché io non sei la persona il tipo di persona che voglio accanto perché sei tirchio e non sei il tipo di persona che voglio accanto perché non mi tratti con rispetto non sei il tipo di persona perché ti puzza l'alito non sei il tipo di persona perché mille motivi mille motivi ecco a volte noi li diciamo altre volte noi non li diciamo è difficile dire a una persona io non voglio stare con te perché sei talmente tanto brutto mi fai talmente tanto schifo esteticamente che non ce la posso fare e questo ragazzi attenzione non significa che quella persona sia oggettivamente brutta significa che a me non piace faccio un esempio stupido se mi si avvicina un uomo anche molto bello e affascinante ma con i capelli rossi e le lentiggini cioè no ma anche no perché quel tipo di parametri a me non piacciono se mi si avvicina un uomo per quanto bello alto quanto me se mi si avvicina un uomo alto quanto me può anche essere bellissimo intelligentissimo però no quello è un parametro che a me non piace ma di certo non vado a dirgli no senti guarda ti rifiuto perché sei alto quanto me questa cosa proprio mi fa ribrezzo a livello sessuale cioè non si può dire una cosa del genere quindi noi di solito ci giriamo attorno siamo bravissimi a girarci attorno ora arriva un certo punto in cui il nostro avanzare il nostro avanzamento viene in qualche modo come dire condizionato sì dall'elemento aria l'elemento aria interferisce nel nostro avanzamento ed ecco che dopo l'intervento dell'aria qualcosa accade ed arriva la rassegnazione rassegnazione che già da questa carta noi possiamo vedere benissimo cosa significa un albero che ha perso le foglie morto un terreno arido secco privo di vita quindi la carta della rassegnazione si ci indica che qualcosa non è andato esattamente come doveva andare e che quindi l'aria interferendo ci ha creato dei problemi cosa come può l'elemento aria creare dei problemi beh dobbiamo considerare che l'elemento aria rappresenta nei tarocchi rappresenta le carte di spade in generale in esoterismo rappresenta pensieri e parole e quindi forse ci arriva qualcosa forse ci arrivano parole o pensieri che ci fanno comprendere che qualcosa non va e che dobbiamo rassegnarci su quel qualcosa magari qualcuno ci avvisa qualcuno ci dice qualcosa potrebbe trattarsi di qualunque cosa potrebbe trattarsi di relazioni che non fa che non vanno o di questioni professionali progetti di qualunque tipo fatto sta che tramite l'aria ci arriva un messaggio e questo messaggio ci porta a rassegnarci è finito il caffè cosa vuol dire è finito il caffè intanto io chiedo ai miei studenti ovviamente di dare la loro interpretazione su questa carta nel contesto specifico ma è finito il caffè è ovvio che sia un modo molto generale per dire che qualcosa non c'è più qualcosa che prima ci dava energia benzina adesso non c'è più e quindi dobbiamo rassegnarci che cos'è che non c'è più cos'è che viene interrotto un flusso d'amore un flusso di comunicazione un sentimento cos'è interro cos'è finito per fortuna l'ultima carta ci salva in calcio d'angolo con la soluzione certo dobbiamo dire che la soluzione non è diritta ma è orizzontale quindi è una soluzione che non è proprio rapida rapida da risolvere da raggiungere o da ottenere quando voi sapete se non sbaglio questo quando è che ve lo dico nel secondo livello di teologia avanzata voi sapete che quando voi osservate le carte se siete destrimani e non siete mancini il senso del il senso del tempo va dal passato a sinistra verso il futuro a destra quindi se voi non siete né mancini né di provenienza araba o comunque né di provenienza da un paese in cui si scrive e si legge da destra a sinistra piuttosto che da sinistra a destra la vostra linea del tempo normalmente dovrebbe andare dal passato al presente al futuro quindi quando la carta della soluzione è orizzontale ed è tendente al futuro e proprio mostra come c'è questo prolungamento energetico verso un futuro significa in realtà che la soluzione c'è ma che probabilmente per raggiungere questa soluzione a pieno servirà comunque tempo servirà appunto di andare avanti un altro po non è ancora finita non è la soluzione non è proprio a portata di mano va bisogna lavorarci sopra un pochino per ottenerla ma alla fine c'è la cosa importante che alla fine c'è e ora vediamo in che modo il nostro oracolo ha qualcosa da aggiungerci e io intanto vi ricordo appunto ragazzi che se volete una sessione privata o un pacchetto potete inviare un email o prenotare da soli dal sito internet vi sconsiglio assolutamente di inviare un messaggio whatsapp per chiedere informazioni sulle sessioni private perché non c'è lo spazio in un messaggio whatsapp e vi dobbiamo comunque poi rimandare all'email e invece potete mandare un messaggio whatsapp tranquillamente se volete informazioni sui videocorsi senza impegno ragazzi risponderemo alle vostre domande quindi se inviate un messaggio qualcuno vi ricontatterà ma vediamo la nostra cartina angelica angelica non vuole uscire ok eccola qui ma non è una cartina angelica tra l'altro questo è un oracolo molto carino che non ha a che fare con gli angeli respirare bello 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 respirare e mantenere la calma quando sembra che ci dobbiamo rassegnare perché è finito il caffè invece ops ecco la botta di soluzione invece il segreto respirare cioè innanzitutto respirare ci riporta all'elemento aria aria come causa di problemi ma anche come soluzione ai problemi l'aria che ci permette di respirare l'aria che ci permette di gestire la nostra stessa le nostre stesse emozioni tramite il controllo del respiro chi di voi ha mai studiato pranayama tecniche di respirazione sa benissimo quanto cambiare il modo di respirare può avere degli effetti allucinanti sul nostro corpo e sul nostro stato di coscienza e vi consiglio di fare qualcosa se non l'avete mai fatto ci sono degli operatori olistici degli specialisti del respiro che fanno organizzano degli eventi singoli o di gruppo in cui fanno proprio vedere come il respiro viene usato a scopo di guarigione a scopo di crescita spirituale e vi permettono di raggiungere degli stati di coscienza alterati senza droghe semplicemente respirando in un certo modo quindi respirare la soluzione ma in questo caso secondo me respirare vuole dirci di stare calmi e non avere fretta perché se la soluzione si trova nel futuro allora rilassiamoci respiriamo non è successo nulla è vero che è finito il caffè ok ma non importa sappiamo che andremo avanti con una soluzione sappiamo che dobbiamo calmarci e dobbiamo star tranquilli quindi ragazzi calma sangue freddo e io spero di esservi stata utile come sempre e noi ci vediamo alla prossima